Ciao a tutti e ben ritrovati come sempre su Link4Universe. Come vedete oggi ho qualcosa di molto speciale da mostrarvi. E' un gioco da tavola chiamato Keper 3042, ambientato nella nostra galassia e dedicato interamente all'esplorazione spaziale. Quando dico esplorazione spaziale non intendo nel senso banale solo ambientato nello spazio, ma davvero dedicato al senso di esplorazione, all'avventura. Non è basato su una competizione per riuscire a conquistare mondi e basta, è dedicato invece al senso di esplorare, alla ricerca scientifica e tecnologica che dovete fare e alla strategia che volete sviluppare per ricercare mondi e colonizzarli e se il set è in grado di gestire bene le vostre risorse anche per rafformarli. Ora questo gioco è speciale per un sacco di aspetti di cui parliamo tra un secondo, ma uno a cui sono particolarmente affezionato è il fatto che ho lavorato con i ragazzi che l'hanno creato, i ragazzi di Postscriptum che sono meravigliosi e saluto tantissimo e ho lavorato con loro per renderlo plausibile sotto tutti gli aspetti dal punto di vista scientifico. Questo gioco è fantascientifico, ma tutto quello che trovate all'interno è basato solo su cose scientificamente appurate. Per esempio il modo in cui potete spostarvi è tramite ricerca nel modo di propulsione tramite antimateria, ma per riuscire a domare l'antimateria dovete fare ricerca nel campo della quantistica, perché dovete riuscire a domare il modo in cui possiamo creare antiparticelle e quello si fa attraverso acceleratori di particelle. Per esempio al cielo di Ginevra abbiamo creato dei antiatomi, antiatomi di idrogeno, però riuscire a spostarli e riuscire a farli durare tanto nel tempo non è facile per nulla e dovrete riuscire a cercare le tecnologie per magari portare tutto questo nello spazio. Così come i pianeti che trovate che non vi svelo perché sono davvero deliziosi e tra l'altro quando mi è arrivato questo prototipo del gioco ho passato serate intere solo a guardare le carte perché ogni pianeta ha un suo disegno diverso ed è davvero delizioso. Potete passare intere giornate solo davvero a vedere come ogni pianeta è diverso. Però al di là di questo i pianeti sono tutti basati su pianeti che davvero conosciamo. Il gioco si chiama Kepler 3042 perché è dedicato alla missione Kepler, è quella che ha scoperto in assoluto più mondi e per adesso più di 3000 e l'ha scoperti tramite una tecnica che si chiama occultazione. Praticamente Kepler punta verso una zona della galassia che tra l'altro è questa, qui c'è il sistema solare, qui c'è il buco nero che domina la nostra galassia Sagittarius Up, quindi potete anche colonizzare mondi nelle vicinanze del buco nero se volete fare una cosa alla interstellar, però Kepler guarda le stelle e vede quando i pianeti passano davanti e il modo in cui occultano queste stelle e la luminosità diminuisce. Così abbiamo imparato molto sui pianeti e abbiamo anche conosciuto di che tipi possono essere. Abbiamo scoperto nel tempo che al di là dei pianeti che conosciamo noi nel nostro sistema solare esistono tanti diversi tipi di pianeti e tutti questi li ritrovati qui. Per esempio trovate oltre ai pianeti rocciosi come il nostro anche delle superterre. Le superterre sono pianeti che sono una via di mezzo tra come la Terra e come per esempio Urano o Nettuno e sono pianeti da 6 a 7 volte la massa della Terra magari. Ed è molto interessante perché nel sistema solare, per quanto ne sappiamo almeno, non ci sono attualmente pianeti di questo tipo. Forse ci sono stati, ma questa è un'altra storia, però nella galassia ne troviamo tanti. Alcuni di questi sono quelli che chiamiamo pianeti oceanici. Sono superterre completamente dominate da acqua e all'interno trovate croste di ghiaccio perché l'acqua sotto grande pressione si solidifica. Questi mondi oceanici potrebbero avere solo forme di vita acquatiche, però potrebbero anche essere pieni di tempeste enormi perché avere solo acqua rende molto molto diverso il modo in cui si formano gli uragani e tutto questo è calcolato all'interno del gioco. Trovate giganti gassosi così come trovate per esempio resti di stelle. Trovate per esempio nane bianche piuttosto che stelle neutroni e quello venne usato nel gioco per permettervi di prendere risorse. Ora, quando dovete ragionare su scala galattica e riuscire a prendere grandi quantità di risorse, se avete bisogno di risorse minerali, un modo per ottenerle non è andare vicino alle stelle per colonizzare solo i pianeti perché quello comunque vi mette all'interno di un pozzo gravitazionale, cioè siete vicino alla grande gravità della stella e dovete poi anche uscire da lì, però se andate intorno a stelle che sono morte, magari come super nuove, in quel caso le periferie sono piene di detriti di vecchi pianeti, quindi i detriti che trovate sono frammenti pieni di minerali. Potete passare vicino alle stelle, nelle zone esterne, quindi senza andare vicino nel pozzo gravitazionale, prendere tutte le risorse di questi vecchi pianeti andati a distrutti e usarle per costruire ed espandere il vostro impero galattico. Per esempio un'altra cosa interessante è che dal punto di vista della comunicazione dovete anche per quello fare ricerca, riuscire a espandere via un conto ma dovete anche riuscire a comunicare tra le diverse parti dell'impero e così come per riuscire a muovervi più velocemente dovete fare ricerca non solo nell'antimateria per la proporzione ma anche nei materiali che servono per far resistere con la navicella a quelle situazioni. Comunque per farla breve tutto il gioco è stato studiato in modo da farvi godere del senso di esplorazione, il senso di avventura e quanto conta la strategia nell'uso delle risorse. Avete vari tipi di risorse che non sono riciclabili sempre, quasi mai in realtà, quindi dovete essere molto bravi nel gestire le poche risorse a disposizione e ci sono modi in cui potreste riutilizzare delle vecchie risorse ma si basano sulla collaborazione con gli altri utenti. Una cosa a cui ci tengo tanto per esempio di questo gioco è che non c'è competizione diretta con gli altri. Molto spesso se voi fate una scoperta quella scoperta è comune a tutti quindi tutti la sanno e di dominio pubblico così come quando abbiamo trovato per esempio il modo in cui creare pannelli solari quel tipo di tecnologia è stato diffuso su tutto il pianeta. È un po' lo stesso principio, avanziamo tutti insieme. Quindi nel gioco c'è competizione perché dovete colonizzare quanto più della galassia possibile, vince quello che è più bravo nel creare delle strategie giuste di esplorazione, di muoversi e gestire meglio le sue risorse. Però non c'è una competizione dal punto di vista bellico se volete. Poi un'altra cosa interessante è che il motivo per cui ce ne andiamo e colonizziamo altri pianeti e raccogliamo risorse altrove è che in questo caso nel gioco la terra è stata trasformata in un grande parco naturale. La terra è ambientata in un futuro in cui non ci sono conflitti grossi, non c'è lo sfruttamento minerario che abbiamo ora che mette a repentaglio il nostro ecosistema. Però per salvaguardarci, per vivere in una terra protetta abbiamo spostato tutte le cose più inquinanti, tutta la ricerca di minerali eccetera fuori verso asteroidi e poi in questo caso anche fuori dal sistema solare. Quindi questo è basato tra l'altro su una cosa che realmente sta accadendo come abbiamo parlato in un altro video se vi ricordate c'è davvero uno spostamento di industrie verso la ricerca di minerali fuori dalla terra nel caso dei asteroidi. Quindi questo secondo me vedremo nel caso del sistema solare nei prossimi decenni una continua espansione in questo senso. Quindi detto questo il gioco è veramente meraviglioso, hanno fatto un lavoro splendido, questo è solo il prototipo ma il gioco è appena uscito su kickstarter quindi hanno bisogno di contributi per riuscire a portarlo a termine. Se vi piace l'idea, se vi piace un gioco che è davvero basato questa volta su scienza, su ricerca, sull'esplorazione, su pianeti che davvero esistono, andate a dargli un'occhiata. Non vi spiego in dettaglio le meccaniche del gioco perché loro sono molto più bravi in questo quindi vi lascio sotto il video. Il video che vi giocano al gioco e vi fanno vedere tutto, vi consiglio la pagina di kickstarter e andate a vedere, potete prendere ora in anticipo il gioco che costa molto meno così e così gli date anche loro una mano per raccogliere i fondi visto che è tutto fatto in maniera indipendente. Quindi è fatto da dei ragazzi semplicemente per passione verso giochi da tavola e per passione verso la scienza e del cercare di avvicinare il pubblico con la scienza, con i giochi al tematico come l'esplorazione. Così come io nel caso di questo canale cerco di farlo usando il teatro quindi li stimo davvero tanto, post scriptum sono fantastici andate a trovarli. Con questo io vi saluto un grandissimo abbraccio da parte mia, ci vediamo molto presto e continuate ad essere come sempre meravigliosi!